Oggi, 17 novembre, facciamo gli auguri a Carlo Verdone, il famoso attore, regista, comico, compie infatti 70 anni. Ha cominciato, diciamo così, la sua carriera nel programma televisivo non stop, proponendo alcuni personaggi particolari, addirittura stralunati, che lui aveva tratto dall'asservazione della gente, delle persone che incontrava per strada. C'erano anche un sacco di tormentoni che Verdone fece dire a questi suoi personaggi. Uno di questi è appunto Un sacco bello, che dede anche il titolo al suo primo film. Poi ne ha fatti tantissimi, sia come interprete, ma anche come regista. Vorrei però far notare, anche augurando appunto buon compleanno a Verdone, un tratto particolare che non sempre viene ricordato, cioè che Verdone è una persona di fede. Non molti mesi fa, in un'intervista fatta proprio da Famiglia Cristiana, lui lo ha ricordato e ha detto io sono un credente, pur tra mille dubbi e problemi. In particolare ha ricordato un episodio quando ha incontrato il cardinale Ersilio Tonini, il quale gli disse, ogni tanto, era un momento in cui Verdone era abbastanza in difficoltà e in crisi anche, diciamo, spirituale e interiore, il cardinale Ersilio Tonini gli disse, ogni tanto fai una telefonata a Dio, ma devi stare da solo, tranquillo e devi essere convinto che lui ti ascolta. Credo che, come dice poi Verdone sempre nella nostra intervista, abbia messo in pratica questo e gli sia stato di grande utilità anche per la propria vita e per la propria serenità. Grazie.